Un aereo è stato abbattuto da Mosca. Nell'elenco dei passeggeri figura anche il capo della Wagner, Prigojin, sarebbe stato colpito dalla contraerea rossa ed è giallo. Per annunciare non basta testimoniare il bene ma occorre anche saper sopportare il male, lo ha ricordato Papa Francesco durante l'udienza generale di questa mattina nell'aula Paolo VI in Vaticano, proseguendo così il ciclo di catechesi dedicato allo zelo apostolico. Caldo infuocato che ricopre lo stivale, oggi e domani 17 città da Bolino Rosso, venerdì saliranno a 19 ma per la prima volta da giorni soltanto in due e torneranno a condizioni di normalità. Palermo e Cagliari, incendi in Grecia e Turchia. Cento anni fa l'assassinio di Don Giovanni Minzoni è stato ucciso dalla violenza fascista e dalle complicità pavide di chi non la contrastò, ha sottolineato il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, nell'Omelia della Messa in memoria del sacerdote ad Argenta in provincia di Ferrara. Edizione delle 20 e 30, buonasera, dunque come avete sentito si è schiantato in Russia un aereo a bordo del quale ci sarebbe il capo della Wagner, Prigozhin, e è giallo se sia stato abbattuto dalla contraerea russa e questo a due mesi dal tentato golpe del 24 giugno scorso. Massimiliano Cocchi. Le immagini catturate da questo telefonino mostrano il momento in cui un jet privato precipita al suolo schiantandosi nella regione di Tver in Russia. Poco dopo l'agenzia statale TASS batte la prima notizia. L'aereo privato del capo del gruppo Wagner e Ogeni Prigozhin è precipitato. L'agenzia per l'aviazione civile russa conferma che tra le dieci persone che erano su quell'aereo, sette passeggeri e tre membri dell'equipaggio, c'era anche Prigozhin. Sui canali Telegram vicini al gruppo Wagner si sostiene che l'aereo decollato da Mosca in volo verso San Pietroburgo, un jet Embrazer Legacy come quello che vediamo in queste foto, non è caduto, è stato abbattuto dalla contraerea russa. Si è confermato sarebbe una notizia clamorosa. Prigozhin il 24 giugno scorso, a capo del suo esercito di mercenari, si era ribellato al comando militare russo e dal fronte di Bakhmut in Ucraina aveva marciato verso Mosca con l'obiettivo di arrestare il ministro della difesa Shoigu e il capo delle forze armate, il generale Gerasimov. Graziato da Putin in cambio dell'esilio in Bielorussia con i suoi uomini, in realtà Prigozhin aveva continuato a muoversi da uomo libero. Due giorni fa era riapparso in questo video da una sconosciuta località africana per dire che assieme ai suoi uomini era al lavoro per rendere sempre più grande la Russia. L'incidente, se di incidente si tratta, avviene nel giorno in cui Vladimir Putin ha destituito il generale Surovikin, capo dell'aeronautica russa, eroe della guerra siriana, comandante in capo delle operazioni in Ucraina fino al gennaio scorso, quasi una leggenda tra i militari russi. È stato sostituito dal generale Viktor Afzalov, fedelissimo del presidente. Nei mesi scorsi l'intelligence dava per imminente l'arresto per tradimento di Surovikin, sospettato di aver sostenuto Eugenie Prigozhin nella sua sfida al Cremlino, una partita cominciata due mesi fa e che oggi sembra essersi chiusa. E una delle ripercussioni internazionali dell'invasione russa in Ucraina riguarda l'esportazione del grano, di cui il paese ucraino è uno dei maggiori produttori, ma a che punto sono gli accordi a intermittenza sul grano tra Mosca e Kiev? Sentiamo Vittorio Torre. La guerra del grano tra Mosca e Kiev rischia di far saltare la sicurezza alimentare mondiale. L'accordo siglato un anno fa aveva consentito il passaggio di 36 milioni di tonnellate di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Ma il 17 luglio scorso la Russia ha abbandonato l'intesa e adesso la tensione nei porti ucraini è massima. Il ministro delle infrastrutture ucraino Alexander Kubarkov ha fatto sapere che nell'ultimo mese gli attacchi di Mosca hanno causato la distruzione di 270 mila tonnellate di grano. Non solo, appena dieci giorni fa i militari russi hanno fermato e sono saliti a bordo della nave turca Sukru-Ozan in navigazione proprio nelle acque del Mar Nero. Un episodio che ha spinto il governo turco a giocare di nuovo il ruolo di mediatore tra le parti per evitare un'escalation internazionale. Sbloccare in fretta le esportazioni di grano ucraino è una priorità assoluta. Per una questione molto pratica occorre svuotare i silos per far spazio al nuovo raccolto, altrimenti il danno economico sarebbe enorme. A pagare il conto più salato sarebbero i paesi africani che non possono permettersi un aumento significativo del prezzo del grano. Il ministro degli esteri turco dopodomani andrà a Kiev e poi con ogni probabilità si recherà a Mosca, una missione per nulla scontata voluta dal presidente Erdogan. Metteremo in campo tutti gli sforzi possibili, ha detto il presidente turco, sia per riattivare il corridoio del grano in modo da soddisfare le aspettative di tutte le parti, sia per far rifiorire le speranze di pace. Il conflitto vede la federazione russa alla ricerca di sponde diplomatiche, continua al vertice dei paesi BRICS in Sudafrica con il sostegno della Cina. Francesco Deremigis. L'acronimo sta per Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, ma al vertice del gruppo dei paesi dalle economie emergenti si sono aggiunti oltre 40 stati perché il tema del summit di Johannesburg è proprio l'allargamento dei BRICS. All'orizzonte c'è la creazione di un nuovo ordine mondiale e la Cina è in prima fila per sponsorizzare lo spostamento dell'attuale baricentro americano rispetto a quello del sud globale. Il dragone mette in campo una controproposta fatta di regole internazionali non dettate da chi flette i muscoli o alza la voce, un chiaro riferimento a Washington. Xi Jinping boccia le piccole cerchie occidentali come le definisce, per esempio il G7. La linea cinese non piace però all'altro pezzo grosso del gruppo, l'India, che accoglie solo la richiesta di rapida espansione dei BRICS. La Russia è d'accordo sull'allargamento al sud globale e Putin, da remoto, si dice contro ogni egemonia denunciando una forma di degrado del mondo causata da politiche di continuazione del neocolonialismo. Lo ZAR in videocollegamento spiega che l'allontanamento del gruppo dal dollaro, una delle idee messe in campo, guadagna slancio ed è irreversibile e la creazione di una nuova valuta è sostenuta anche dal brasiliano Lula che sferza i paesi ricchi sul cambiamento climatico, smorzando però i toni verso l'Occidente. I BRICS, dice Lula, non vogliono essere un contrapunto al G7, al G20 o agli Stati Uniti. Insomma, c'è un progetto di massima, ma l'unanimità tra vecchi e nuovi BRICS è tutt'altro che dietro l'angolo. Ed ora la cronaca con lo stupro di gruppo a Palermo. Mentre si fa difficile la situazione nel carcere per gli accusati, il caso diventa sempre più ricercato e dibattuto sui social e il garante della privacy mette in guardia dalle conseguenze anche penali per chi condivide il video. Betrice Bossi. La direzione del carcere di Pagliarelli chiede l'immediato trasferimento dei sei giovani accusati di violenza di gruppo. Gli altri detenuti non li hanno accettati, fanno sapere, la loro permanenza è destabilizzante per la sicurezza dell'intero istituto. Nelle stesse ore in commissariato i genitori dei ragazzi indagati hanno sporto denuncia contro i gnoti. Vorrebbero identificare chi in rete insulta e minaccia i loro figli. L'emergenza sociale riguarda principalmente l'emergenza educativa, quindi siete, siamo un branco di falliti. Il video di un insegnante di Palermo che tenta un esame di coscienza è diventato virale. Federfarma Palermo e Associazione Mete Onlus da nove mesi organizzano nelle farmacie una campagna di sensibilizzazione contro le violenze. Piccoli passi su una strada ancora lunghissima. Questi soggetti vengono affidati agli psichiatri, agli psicologi per uscire dall'incubo della persecuzione, del ricatto sessuale. Da qualche giorno è partita online una vera e propria caccia al video della violenza. Sarebbero almeno 2000 le condivisioni secondo indiscrezioni di stampa. Da qui l'appello alla cautela del garante della privacy. Anche chi lo diffonde a posteriori ha ricordato rischia conseguenze penali. Ed ora in Vaticano per l'udienza generale di questa mattina nell'aula Paolo VI. Papa Francesco è tornato a chiedere di non dimenticare la martoriata ucraina, ma si è soffermato anche sui temi dell'annuncio cristiano. Paolo Fucili. Per annunciare il Vangelo non basta testimoniare il bene, occorre anche sopportare il male anche dalla Chiesa, come l'indio Juan Diego. Il primo a non credere che gli era apparsa la Vergine Maria fu il suo Vescovo, tanto da fare esclamare oggi al Papa. Tante volte noi vescovi. Udienza del mercoledì in Aula Nervi. Prima di quei fatti racconta Francesco troppo spesso l'evangelizzazione dell'America. Appena scoperta seguiva modelli precostituiti e interessi mondani. La Vergine di Guadalupe invece appare vestita con gli abiti degli autottoni. Parla la loro lingua, accoglie e ama la cultura dell'uovo. Questa, spiega in sostanza Francesco, è l'inculturazione tema di oggi. Evangelizzare le culture con costanza e pazienza, senza temere i conflitti né perdersi d'animo. Sto pensando un paese dove i cristiani sono perseguitati perché sono cristiani. E l'ultimo pensiero prima della benedizione va all'Ucraina, che oggi festeggia la sua bandiera e domani l'indipendenza. La cara Ucraina, dice Francesco. Così duramente provata dalla guerra. Fratelli e sorelle preghiamo. Per i nostri fratelli e sorelle ucraini soffrono tanto. La guerra è crudele. Tanti bambini spariti, tanta gente morta. Preghiamo per favore. Non dimentichiamo la martoriata ucraina. Continuano a bruciare a causa degli incendi la Grecia e la Turchia, ma il forte caldo non lascia l'Italia. Oggi e domani 17 città da bollino rosso. Venerdì saliranno invece a 19. Ma per la prima volta da giorni, soltanto in due, torneranno a condizioni di normalità. Si tratta delle città di Palermo e Cagliari. Sentiamo Antonella Mazzateruel. La situazione per il momento è abbastanza stabile. Le temperature sono leggermente in diminuzione sul nord Italia, ma una diminuzione molto lieve. Sopra la media stagionale, le temperature il prossimo fine settimana caleranno con l'arrivo di una perturbazione atlantica che rinfrescherà il bel paese, ma porterà anche temporali e probabili grandinate. Intanto, per la giornata di domani, sono confermate dal Ministero della Salute e 17 città in bollino rosso per la terza onda di calore estivo causata dall'anticiclone africano che persiste sull'Italia e sull'Europa occidentale. Oggi nel sud della Francia il termometro raggiunto 41 gradi e nelle vigne per raccogliere l'uva si attendono i momenti più freschi delle ore notturne. In Grecia le autorità nazionali considerano quella in corso un'estate senza precedenti per i numerosi roghi, circa 350, divampati nel nord-est del paese negli ultimi cinque giorni in continua espansione. Brucia la regione della Traccia al confine con la Turchia, raggiunto dalle fiamme anche il monte Parnete a nord di Atene. Questo uomo abita a Menidi, vicino alla capitale greca, e racconta che l'intera cresta della montagna ha bruciato tutta la notte. Con l'arrivo degli elicotteri e dei vigili del fuoco, le fiamme all'alba sono state domate, ma dopo mezz'ora hanno ripreso forza, alimentate dai venti. Incessante il lavoro dei pompieri tra i monti Rodopi, i roghi, i riaccesi, portati da forti raffi che si stanno muovendo in direzione della Bulgaria. Sono in fase di definizione in Giappone i preparativi finali per il rilascio delle acque contaminate dalla centrale nucleare di Fukushima nell'oceano Pacifico. L'acqua sarà ulteriormente esaminata e da giovedì rilasciata in mare insieme ad altre immagazzinate sul sito. Circa 1,34 milioni di metri cubi di acqua equivalenti a 540 piscine olimpiche sono stati raccolti nelle cisterne, utilizzate per raffreddare ciò che resta dei reattori ancora altamente radioattivi e che si sono mescolate successivamente con acque sotterranee e piogge. La complessa operazione ha avuto il via libera dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E torniamo in Italia a lavorare e nonostante l'impiego essere povero. Secondo i dati IMSS-CGL, a Roma un lavoratore su quattro è in condizioni di povertà. Una condizione minata da inflazione, retribuzioni insufficienti e alto costo della vita che non riguarda certo la sola capitale. Paola Gatti Lavori precari per lo più saltuari e occasionali con contratti di breve durata oppure in nero, spesso mal retribuiti. I più penalizzati sono gli under 35 e le donne che a parità di mansioni si trovano inoltre a fare i conti con il gap salariale. Nella capitale un lavoratore su quattro è povero e il quadro non migliora a livello regionale. Con stipendi da fame e l'inflazione alle stelle, arrivare a fine mese per tanti è un'impresa. Trafito da pagare, bollette rincarate, spese varie, nelle tasche resta poco o niente. Si fa veramente fatica ad arrivare a fine mese, specialmente se ti vuoi mantenere una casa da solo e vuoi avere la tua indipendenza. Io mi trovo proprio in questa situazione qui. Non ho molto tempo libero perché sto scappando da un lavoro all'altro, solo in questo modo posso mantenermi. I giovani sono costretti a cercare, cercare, cercare e trovano poco, quasi niente alcune volte. Sul territorio regionale il 28% degli occupati guadagna meno di 15.000 euro all'anno, 900 netti mensili. Si tratta dei cosiddetti lavoratori poveri, ovvero coloro che seppur lavorando percepiscono retribuzioni molto basse. Corrispondono al profilo 744.000 persone in tutto il Lazio, di cui paradossalmente più della metà ha un contratto a tempo indeterminato. Lavorando in due forse si riesce ad arrivare a fine mese. Il lavoro è stato uno dei temi affrontati oggi sul palco del meeting di Rimini, dove è intervenuta anche la Presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra. Sentiamo Luciano Piscaglia. I lavoratori devono poter accedere ai diritti fondamentali individuali e collettivi indipendentemente dal tipo di contratto stipulato. È il principio posto dalla Presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, che oggi al meeting di Rimini è intervenuta sul rapporto tra lavoro e democrazia. Il mio punto di vista è che in generale il lavoro parte del sistema democratico della nostra Repubblica, quindi rafforza le istituzioni democratiche della Repubblica italiana. Non a caso il primo articolo della nostra Costituzione esordisce proprio a quel tempo il lavoro al centro della democrazia. I cambiamenti in atto nel mondo del lavoro insieme ai cambiamenti climatici sono tra le grandi sfide che la nostra società deve affrontare. Il meeting invita a guardare al Magistero di Papa Francesco che indica nella fraternità e nell'amicizia sociale la strada da percorrere. Allora con la dimensione di una categoria come quella per esempio dell'alleanza, della fiducia, della benevolenza che l'amicizia sociale ci insegna, noi siamo qui al meeting per ricostruire e tessere un grande disegno che ci sono punti virtuosi all'interno del paese che connessi possono far rinascere politiche e processi evolti anche. Intanto cresce l'attesa per la visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà al meeting venerdì mattina. Un tempio romano con adiacenti strutture alto medievali è stato scoperto a Sarsina in provincia di Forlì-Cesena nel corso delle attività di scavo dirette dalla territoriale soprintendenza di archeologia, belle arti e paesaggio. La struttura tripartita rinvenuta nella città natale del comediografo Plauto sarà presentata alle giornate europee del patrimonio in programma il 23-24 settembre prossimi. Il Ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, lo ha definito un tesoro archeologico. Cento anni fa l'assassinio di Don Giovanni Minzoni, da sempre oppositore del fascismo. Cerimonia di commemorazione presieduta dal Presidente della CEI, il Cardinale Matteo Zuppi, nella città di Argenta, in provincia di Ferrara. Antonella Mitola. Don Giovanni Minzoni, prete appassionato, amante della patria, pastore creativo e fedele, uomo di preghiere, attento ai problemi concreti, con un'attenzione preferenziale per i poveri e i piccoli. Così il Cardinale Zuppi, presidente della CEI, nell'omelia della Messa Solenne nel Duomo di Argenta per i cento anni della morte di Don Giovanni Minzoni, ucciso in un agguato fascista il 23 agosto 1923 perché aveva sfidato il regime, fondando due gruppi di scout in contrapposizione con i giovani Balilla. Don Minzoni è stato ucciso dalla violenza fascista e dalle complicità pavide di chi non la contrastò. Fascismo che significa disprezzo dell'altro e del diverso, aggiunto il Cardinale Zuppi, sottolineando che Don Minzoni affrontò il fascismo senza compromessi, opportunismo o convenienze. Per questo Ere rimane una sentinella del mattino. Al termine della Messa, l'annuncio dell'avvio della causa di beatificazione il prossimo ottobre, il postulatore padre Gianni Feste rappresenta la celebrazione eucaristica insieme ai Vescovi dell'Emilia Romagna e ai tanti rappresentanti degli scout della Gesci, Masci e Scout d'Europa, che con la parrocchia di Argente e la diocesi di Ravenna hanno promosso la causa di beatificazione. Spazio allunaggio riuscito per il rover indiano Chandarayan 3, un momento storico per uno dei paesi più popolosi al mondo che cerca di affermarsi tra le potenze spaziali che hanno effettuato con successo l'esplorazione della Luna dopo un primo tentativo fallito quattro anni fa. E torniamo in Italia, Firenze offesa, offesa scritte con lettere e numeri sulle colonne del corridoio vasariano. Il direttore degli uffizi chiede il pugno duro. È stato un atto premeditato il ministro della cultura San Giuliani. Anche un piccolo graffio sarà d'ora in poi perseguito ed è soltanto l'ultimo sfregio a beni culturali del nostro paese. Cesare Cavoni. Il corridoio vasariano è stato imbrattato da gnoti con lettere e numeri. L'atto vandalico è avvenuto sull'ungarno Archibusieri che porta a Ponte Vecchio. Il fatto è accaduto nella notte. Dalla scoperta all'alba i carabinieri si sono messi al lavoro per analizzare le videoregistrazioni e mettere insieme i vari indizi trovati. Il sindaco Nardella condanna il vergognoso gesto. Secondo il direttore delle gallerie degli uffizi, Eike Schmidt, si tratterebbe non del ghiribizzo di un ubriaco ma di un atto premeditato che in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, è punito con il carcere fino a cinque anni. Ben sette pilastri sono stati imbrattati ai danni delle gallerie degli uffizi e di tutta la collettività. Va applicata la legge esistente con polso fermo e se questo non dovesse bastare va introdotto una legge più severa. I responsabili vanno immediatamente individuati e sanzionati. Occorre che costoro capiscano che anche un piccolo grafio sarà d'ora in poi perseguito, ha sottolineato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Sangiuliano ha anche annunciato che il governo ha inserito una norma nel DDL ad hoc volto a far pagare responsabili di questi gesti gli ingenti costi degli interventi di ripristino. Il DDL varato dal governo è già stato approvato in Senato e dopo la pausa estiva dovrebbe arrivare al via libera definitivo con l'ok della Camera. Dunque l'ennesimo atto di vandalismo che colpisce uno dei luoghi simbolo del patrimonio nazionale. Un'estate questa che ha visto gli sfregi al Colosseo, gli scarabocchi e i graffi di vernici a Venezia, il rogo della venere degli stracci a Napoli. solo per citare gli ultimi episodi. Ed è tutto, vi lascio al Meteo e poi alla serie Sanditon basata sull'omonimo romanzo incompiuto di John Austin. Grazie al vostro tempo e a domani. Buonasera.